paolone ma la stai a perdere sta ranked no povero paolo madonna quanta gente questo è basso basso per la casa centrale mi sa che la faccio a lui vieni alla c vieni alla c no sto nel condominio mattonato ok io sono nella merda allora vengo sotto i te ho un cecchino qua è libera c'è uno sotto con il pompa ok ce l'ho pure io il pompa ora no sento ti sei buttato proprio addosso a lui eh si ma sono caduto non mi sono buttato è una mi sa che è sopra però prendi la pozzata 50 una pozzetta bro pozzata 50 e pozzetta vado a prendere questa sì sì l'ho presa sono per niente male sti che te lo dico ciao al cecco tieni i colpi ma è sopra di noi col forno mi sa non lo riesco a capire arrivo 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 dietro di noi dietro di noi ce l'ho davanti l'uomo là come cazzo si chiama c'ho aiutato fatto dietro di noi dove a est eh sì sì proprio in quel male di piccola mattoni ok vedi quella scala l'hanno pusha ma non so chi ha vinto eccolo sotto va nel garage va nel garage qua no 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 non vanno nel garage l'ho bloccato bloccato uno madonna che laggata che ha dato il gioco sotto di me alla macchina qua dove sono io si è buttato fatto c'è un cerchino d'aurato eh dove vorrei che giravo a vedere eh sotto di me che continuavo a girare in tondo eh a parte facevo il giro al contrario c'è il cerchino d'aurato vero si te l'ho preso lo vuoi tu no no era per chiedere se avevo detto una cazzata no 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 non lo voglio non lo voglio era solo per dir era per te si si edificio centrale prenditelo prenditelo l'ho preso l'ho preso però eh no 30 second to mars quando angel screams i don't want any alive i don't believe sale un amico dalle scale mi ha sparato è sotto di me oh oh fatto uno dov'è no no puttanata enorme puttanatissima ce l'ho di fronte ma una call più o meno di dov'è che non capisco io è proprio di fronte non so che cazzo di vittorio gemelle qua si si mi sta pushando mi sta pushando sceso giù è sotto di me eh mi ha fatto arrivo dal campanile sei coperto si 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 meno che non mi faccia cadere sentite lo dico comunque è una bella stronzata questa cosa che col pittino dorato è diverso il rinculo eh si perchè non ti abituo mai no mi sta rompendo tutto mi devo buttar giù no 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 borco giù l'ho messo il muro è passato attraverso il muro è passato attraverso il muro no tranquillo tranquillo io ti direi prendi il cecchino però che c'è là lui eh eh merda il tuo cecchino è filo giù fuck è giù giù sai che ti è buttato si vorrei andare a salvare l'amico che ha noccato prima è una stronzata questa cosa cioè non l'avrei preso in testa ti giuro what? 21 è che dorato non l'ho mai avuto e quindi non ti devi abituare lo so è una merda sì non so come no no sono un pippone stratosferico non c'ha quasi cadenza praticamente quello dorato io non so come si faccia a migliorare su questo gioco cioè ci gioco costantemente e quando mi sento più forte a giocare muoio più mi sento forte più muoio ma allora te lo dico se attualmente non ti senti a tuo age è perché hanno cambiato determinate meccaniche e hanno diminuito lo skill gap tra un giocatore bravo e uno non bravo quindi attualmente non è fair lo scontro stanno togliendo sempre più meccaniche che rendevano prima un giocatore bravo rispetto all'altro magari cose di tempistica eccetera eccetera e quindi risulta molto più difficile ora cercare di ammazzare una persona questo qui è il problema principale del gioco di cui tutti si stanno lamentando questo pure perché molte persone che giocano su console giocando in cross si lamentano il fatto che la gente su pc è più avvantaggiata ma io come dico ma porco giuda fate chi gioca su pc quanto aggetto di pc gioca solo nei server di pc cioè io per esempio non mi sto più sbattendo come un maiale a fare determinate cose proprio per un fatto che secondo me dato che ci stanno tutte queste schifezze che capitano in game non mi conviene sbattermi così tanto per cosa per fare una kill su uno che prima magari killavo in dei modi che quello là si metteva le mani nei capelli effettivamente cioè non mi sto più applicando magari come un tempo ma giusto perché il gioco sta diventando troppo lento e non premia se io sono più veloce di uno perché a me dispiace il fatto che quando giocavo io con te mi diverto un botto a giocare però cioè non ti faccio vincere ma sa che cazzo mi frega a me mi dispiace perché sono abituata a morire a ripartire però che ti trovi a gioca vedi uno di mille non ti preoccupare a me sembra di sentire qualcuno sotto no eh eh l'avevi preso in pieno quello eh sono stato velocissimo eh se ti prendeva impazzivo no ma oh grazie a dio grazie a dio la domanda è dove a che lato sono andati ok la risposta è questo mamma mia che game stai facendo sì veramente complimenti vabbè non sto facendo niente di che problema è che mi sa che mi devo levare il cecchino assolutamente ora non posso più usarlo ora sto cecchino diventa inutile troppo stretta la zona sì cioè ho se ho cioè più che altro mi piccano in due ora devono essere cioè ora è solo de merito dell'avversario eh cioè tipo questi erano due scemi perché lo sapevano dove ero cioè tipo io io oggi era così mi ricordo che dovevi prendere e dovevi levarti il mirino in base a quanto era la zona siamo con le ultime zone non ti si arriva assolutamente più il però ecco mi sta pushando uno se lo vedo da dove però ma che so vuole salire no no vuole salire di qua da dove ero io oh no io gli sparavo ma i colpi non entravano però gli hai dato bella che nel culo eh ho capito però i colpi non entravano cioè non è possibile ho sparato tre colpi e tre colpi non sono entrati nel corpo a un certo punto stavo per dirò ma che cazzo è ma esco di nuovo fuori con la R ho perso pure cento di scudo per sta stronzata allora come è la zona mi prendo un high ground eccolo lì l'abbiamo si stanno lì stanno lì stanno lì ecco lì là tutti e due timati non penso sia uno o uno no no sì sì due due quelle là la cosa ora devo sfruttare bene le granate beccare granate beccare granate beccare è la cosa importante come si deve mi pushano va male letshot e torni subito indietro si ti riesce a distruggere la pedana? vabbè god il problema è che il gioco è diventato così lento che quando sei uno v2 se loro fa cappano ok ce la fai se loro non fa cappano non ce la farei mai è brutto da dire ecco lì mi hanno già spottato meno male gli sparano alto se tu dovresti entrare in fight mentre loro due si ammazzano i due team sarebbe tipo perfetto mi vogliono bloccare no non ti ha visto pronto occhio a destra aspetta un secondo mate fattu uno ok l'ho visto l'altro si l'ho visto oh mi si è bloccato il gioco questo era morto se non ti si fermava mi si è bloccato il gioco ma quanto cazzo di vita stiamo scherzando c'è la casa può essere eccolo mamma mia che bello dai dov'è dov'è lì nella cosa in metallo vero si sento sia dietro la zona sicure questa fa malissimo quindi lui deve andare per forza straight up per forza di cose bravo bravo grazie ho fatto la porta bella questa e mo? e mo? yes easy questa qui è la Paolo Cannone Win questa è la Paolo Cannone Win Paolo vieni qui vieni qui 22 Paolo vieni qua Paolone fa un salto per il 22 Paolo 22 solo per te l'ho vista questa ti è piaciuta? come fai ad organizzarti che gli sei salito in bocca? che vuol dire? Paolo ma eri nudo Paolo eri in mutande sei un animale Paolo ciao Grazie per la visione